Vai Joe! Ecco Jonathan Tandei che si approssima ad affrontare la pista col trusche. Ecco che si mette in posizione! Che tecnica! Se non va un po' più piano io riesco a riprenderlo! Vai un po' più piano Joe! Vai 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 vai! Vai vai vai! Dai a uomo! Dai a uomo! Dai a uomo! Dai seguilo! Siamo in mezzo al bosco ragazzi! Dai a uomo! 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 Un saluto! Dai a uomo! 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 Dai a uomo!